Archiviata l'ultima sosta stagionale, il torneo di eccellenza Marchi si rimette in riga per vivere le ultime tre gare del campionato. 270 minuti ancora da giocare, nei quali si miscelano ambizioni e speranze con tutta una serie di verdetti ancora da scrivere. Fino a questo momento il campionato ha già detto due cose. Il ritorno in Serie D della Civitanovese, che ha staccato il lascia passare per il salto di categorie con tre turni d'anticipo, e la retrocessione matematica del Corridonia dopo una stagione decisamente tribolata, che però i rossoverdi stanno onorando con grande professionalità fino alla fine. Resta da vedere l'atteggiamento che avrà la Civitanovese nelle ultime tre partite. Con il campionato già in tasca, le motivazioni potrebbero fare la differenza, in tutti i sensi, anche se il tecnico Massimo Pace, microfoni aperti, ha detto a chiare lettere che la solida attenzione non sarà abbassata. Il campo ovviamente chiarirà tutti i dubbi al riguardo. La gara forse più importante della ventottesima giornata in quelle programma sabato tra Elvia Recina e Vigor Senigaglia. La quintultima contro la penultima. È una sorta di crocevia, soprattutto per gli ospiti, che sono ad un passo dalla retrocessione diretta. Di contro, la formazione di Lattanzi con un successo potrebbe mettersi quasi in salvo, e con ogni probabilità non far disputare uno dei due play-out. Con un successo della Vigor, invece, tutto tornerebbe clamorosamente in discussione. Corridonia forsempronese e Trodiga pergolese vengono un gradino sotto in fatto di importanza. Metaorenze e Trodicenze, a meno di clamorose filotti, dovranno giocarsi la salvezza agli spareggi. Forse gli uni contro gli altri. Conterrà molto la posizione finale, con l'augurio, da parte degli uomini di Mariotti e Mobili, di risucchiare, nella loro rincorsa, qualche formazione al momento in apparenza più tranquilla. Corsa play-off. Il Tolentino è decisamente dentro, anche se gli uomini di Possanzini strizzano l'occhio addirittura alla seconda piazza. Per far questo devono vincere tutte le ultime tre sfide. Passaggio delicato, anche quello di sabato tra Porto d'Ascoli in serie utile da cinque gare, è il Monte Giorgio, che non vince da sette partite e che deve raggranellare qualche ponticino, da qui alla fine, per blindare la tranquillità. In testa, la cittadonese farà visita al Fabriano Cerreto, che è ancora in corsa nella fase nazionale della Coppa Italia. Gli uomini di Spuriforotti mercoledì prossimo saranno chiamati ad una nuova impresa, vincere o pareggiare con almeno due gol di scarto a Sanremo. Resta da vedere dunque con quale atteggiamento giocheranno il match. Punti importanti in ballo tra il Grotta Mare e l'Atletico Gallo, che deve salvarsi, e tra Urbani e Biagio Nazaro, sfida che potrebbe risultare decisiva nella corsa playoff.